Sì, sono stati Diciamo due gol di testa E sono arrivati In una fase in cui venivamo Diciamo da una calata Abbiamo sbiato anche rigore Quindi era doveroso chiudere la partita Ci siamo riusciti, abbiamo portato a casa tre punti Sono fondamentali come il pane Per noi e quindi ci godiamo questa vittoria Ma martedì avremo Uno scontro salvezza molto importante Che determinerà la nostra stagione Sta diventando un bomber di rigore Anche perché hai capitalizzato al massimo Le uniche occasioni che hai avuto Sì, diciamo che le mie caratteristiche sono quelle Comunque dentro l'aria cerco sempre di Puttarla dentro, a volte non riesce A volte arrivano doppiette come questa E quindi sono strafelice del percorso che sta facendo Certo, i difensori del Frosinone Erano dei belli alti Quindi anticiparli di testa Non è stato neanche facile Sì, avevano Un reparto difensivo ben Allestito Però sono riuscito a sfruttare Le occasioni che ho avuto Potremmo diciamo Potremmo chiudere la prima Però vabbè La partita è andata così Comunque l'abbiamo vinta 2-0 E siamo contenti di questo Ora festeggiamo Ma testa sempre a martedì Dediche a questa Per questa la pietà? Dediche il gol Soprattutto a tutti i miei parenti Che erano qui Ma soprattutto anche Ai difusi che oggi Hanno dimostrato di esserci Di essere presenti E quindi Il ringraziamento va loro Per la cornice che hanno offerto Ecco, torniamo sui tuoi gol Nel primo è stato anche bravo A pescarti sul secondo palo L'Edesma Su una punizione dalla destra Nella seconda circostanza Invece hai raccolto E concretizzato Come meglio non avresti potuto Un bel cross da sinistra Di Petriccione Quindi Straordinario turno E rubare il tempo agli avversari E nel secondo gol Hai colpito in sospensione Con una elevazione Davvero straordinaria Bravi anche compagni A pescarti Sì, bravissimi Sappiamo che So Che le loro caratteristiche So magari dove può Cadera Parla Hanno un piede Raro in queste categorie Quindi ringrazio sia Cristian Che Jacopo Per gli assist serviti Perché Diciamo sono arrivati Perfetti E io Ho dovuto soltanto Metterla dentro Adesso sei ovviamente Titolare inamovibile Ma in alcune fasi Del giro d'andata Hai fatto molta panchina Addirittura qualche tribuna C'è più soddisfazione Per quello che stai facendo Adesso Adesso Già da qualche tempo Di importante Ma in realtà Hai segnato gol decisivi Anche all'andata Vedi la vittoria col Brescia O più rammarico Perché magari La controprova Nel calcio non esiste Ma Presumibilmente Con un maggior minutaggio Avresti segnato Anche un maggior numero di gol Ma questo Diciamo non può dirlo Nessuno Comunque Lo spazio Che ho avuto Me lo sono sempre guadagnato Non mi è stato mai regalato Magari Qualche Qualche allenatore Diciamo Non credeva Non credeva Nei miei caratteristiche Ci sta Nella vita Incontri parecchi allenatori Che magari Ti vedono Non ti vedono Però Il mio Il mio percorso Per ora Sta andando bene Ringrazio soprattutto Chi non mi ha fatto giocare Perché comunque È stata Una prova di crescita Che Magari non sarei Non sarei arrivato fino a qui Cioè ti ha forgiato Sul piano caratteriale Ti ha temprato Certo A martedì a Brescia Cambierai partner Perché Avenatti Salterà la prima gara stagionale In quanto scolificato Era diffidato È stato ammonito Nel finale di gara Quindi cambierà il tuo partner Nel reparto avanzato Sì ma non abbiamo problemi Su questo Ci sono Dei ragazzi Vogliosi di dimostrare Il loro valore Abbiamo dei professionisti Quindi Chiunque giocherà Sono sicuro Che darà il 100% Per questa squadra L'obiettivo della Ternana Ovviamente è la salvezza Ma il tuo obiettivo Adesso è superare La guada 10 Sì L'ho detto a inizio anno Quando feci Il terzo Il quarto gol È sempre stato Un mio obiettivo Nell'arco degli anni Quindi Ora ci sono vicinissimo Non mi voglio fermare Senti Simone Inzaghi Quanto è stato D'aiuto Nella tua formazione È stato fondamentale Lo sento tuttora Ci sentiamo spesso Quasi tutte le settimane Mi monitora Io monitoro Quello che stanno facendo loro Perché comunque Stanno facendo Una grande stagione Soprattutto Lui è stato Diciamo Il mio Il primo allenatore Che mi ha fatto capire Che cosa Cosa dovevo fare in aria E come dovevo Muovermi in aria Quindi Lo ringrazio Quanta fiducia vi regala Questa ennessima Vittoria consecutiva È la quarta Consecutiva In casa Con Liberani Che praticamente È a punteggio pieno Tra le muramiche È una grande botta Di fiducia Perché comunque Arrivavamo A un periodo In cui bisognava Invertire la rotta Avevamo perso Due partite Qui Una Persa